Quindi così possiamo iniziare questa chiacchierata in cui poi se avete domande, dubbi, insomma cerchiamo di essere poco accademici e molto efficaci e anche utili perché dobbiamo tesaurizzare un po' i tempi e renderli più possibili, fruttuosi proprio per l'azione che facciamo con i bambini in una fase della storia che penso ci ricorderemo a lungo e che sicuramente quelli dopo di noi troveranno scritti nei libri, ci saranno racconti di questo anno, anno e mezzo di storia che stiamo vivendo e quindi vuol dire che siamo dentro una fase non banale, così un po' come il virus che è invisibile e quindi abbiamo due reazioni, o l'evitamento proprio della serie, siamo talmente impauriti da qualcosa che non dominiamo da doverlo eliminare e allora abbiamo tutti i comportamenti come se nulla fosse e magari quando c'è una giornata di sole come in questi giorni ci sembra quasi che il mondo sia normale e ci dimentichiamo di adottare invece quelle precauzioni che ormai fanno parte della nostra quotidianità oppure dall'altro veniamo proprio inondati da un dosaggio di ansia diffusa e quindi veniamo un po' bloccati nella vita quotidiana mentre come dire, come educatori noi dobbiamo tenere anche pulito il nostro mondo interno proprio per non riversare nella nostra opera professionale poi quelle che sono tematiche che riguardano noi come persone e quindi parlerei un attimo così innanzitutto del fatto che per inquadrare anche teoricamente il percorso visto che qualcuno diceva non c'è nulla di più pratico di una buona teoria è pensare che il saper leggere il proprio mondo interno anche per noi adulti cioè comprendere i nostri stati d'animo rilevare quei pensieri di sottofondo che a volte attraversano rapidamente la nostra mente e che per esempio ci turbano e ci fanno rimanere con quel senso di turbanimento senza più sapere far risalire a quel pensiero il turbamento che proviamo e quindi essere capaci di monitorare poi di andare avanti e indietro nella situazione che vi posso dire è una giornata è una bella giornata le cose vanno bene i figli sono andati a scuola ci apprestiamo a prendere un buon caffè e che vi posso dire riceviamo un messaggio che ci crea una piccola perturbazione per esempio un lavoro in più che non avevamo previsto e non registriamo questa perturbazione e quando abbiamo terminato di prendere il caffè ci alziamo dalla sedia alla quale eravamo arrivati in stato di benessere e ci sentiamo perturbati e ci portiamo questa perturbazione un po' durante la giornata e magari anche nel rapporto con gli altri e non riusciamo più a risalire al fatto che la perturbazione era determinata da quel messaggio in cui mi si chiedeva di fare un lavoro che non era previsto e che alla fine se lo riconduco e lo relego al potere che può avere e poi fare un lavoro in più nella mia giornata forse ripristino immediatamente un po' il mio benessere precedente perché è talmente poco oppure posso rimandare oppure posso dire non ce la faccio cioè ci sono tanti modi di reagire e invece magari si rimane perturbati senza comprendere più l'origine di quella perturbazione perché non abbiamo la telecamera interna che ci aiuta a monitorare il momento in cui questo passaggio è avvenuto ecco avere questo tipo di intelligenza significa avere un forte contatto con se stessi una capacità di appunto far risalire gli stati d'animo che variamente proviamo a situazioni reali o a comprendere quando gli stati d'animo ci vengono da schemi che abbiamo vissuto anche in momenti diversi della vita e che riapplichiamo indipendentemente dalla situazione dall'analisi per così dire di realtà cioè oggi non avrei più bisogno di di reagire come quella volta tanti anni fa ma comunque mi accorgo che faccio questo c'è una sorta di automatismo di quando noi diciamo facciamo le cose istintivamente in realtà quasi nulla facciamo per istinto ma lo facciamo in modo automatico cioè si innesca un processo uno schema mentale che ci riconduce a fare le stesse cose che spesso poi sono infruttuose e ci sbottoppiano perché non sono più neanche le nostre nella postura che abbiamo oggigiorno al mondo questa capacità di monitoraggio interno è fondamentale ci tiene al mondo in modo fluido in modo coerente aderente alla situazione ci tiene nel qui e ora in contatto con noi stessi senza doverci mentire in contatto con gli altri senza dover fuggirne e permette quella che si chiama autoregolazione emotiva cioè le mie emozioni non solo le riconosco ma le doso e decido scelgo quando possono essere comunicate e quando è meglio rinviarne la comunicazione le trasformo anche perché posso avere un'immediata paura perché ho sentito una porta che sbatte e la trasformazione di quella paura che sorge in maniera automatica ci permette di allontanarci da quella paura ma anche di smaltire la tossicità che per esempio la paura comporta a livello proprio del nostro sistema fisico corporeo e neuropsicologico quindi questo per quanto riguarda la definizione si parla proprio di problem solving interiore cioè una capacità di risolvere problemi che sorgono dentro noi stessi e credo che sia come dire il modo che tutti ci augureremmo no? e i problemi interni sono quotidiani perché la scelta che vi posso dire del lavoro la scelta ma banalmente anche quando andiamo a scegliere se comparci una borsa o no abbiamo da risolvere un problema interno perché abbiamo istanze che ci dicono compra l'abbiamo istanze che ci dicono non la comprare perché costa troppo non è il momento abbiamo le voci genitoriali vecchie no? che ci inducono il senso del dovere o abbiamo un bambino capriccioso dentro di noi che dice dai prenditela a qualunque costo anche se devi fare un debito avere il monitoraggio di queste voci di questo tipo di problem solving sapere tenere la regia no? di tutte queste stanze interiori credo che ci dà una chiave di accesso all'equilibrio al benessere che supera qualsiasi altro tipo di capacità di problem solving nella vita quotidiana così come nel lavoro ed è l'intelligenza per se stessi è un'intelligenza che va che permette la cura di sé e la cura di sé permette la conoscenza dell'altro cioè senza la cura di sé in senso intrapsichico la pulizia dei nostri delle nostre emozioni del nostro mondo interno la aderenza al nostro mondo interno l'accoglienza del nostro mondo interno così com'è così come si come così come reagisce al mondo che non è né buono né cattivo né vero né falso è è che ho provato gelosia quando mio marito ha salutato una mia amica è che ho provato invidia quando la mia collega ha fatto un bellissimo intervento di fronte al dirigente è che mi sono sentita arrabbiata quando il figlio ha fatto tardi la sera e gli avevo dato un'altra indicazione è che sono che ho queste reazioni le conosco le riconosco mi ci riconosco e convivo con tutta la varietà senza dovermi dire ma no ma non va bene essere gelosi o invidiosi o hai fatto prima ancora di arrabbiarti pensare che sia sbagliato arrabbiarsi non è sbagliato arrabbiarsi è sbagliato magari tirare un ceffone sulla base della rabbia al figlio che ha fatto tardi questo sì ma la rabbia in quanto tale non è né buona né cattiva è una reazione a qualcosa che accade al di fuori di me e che mi dice qualche cosa rispetto al mio modo di essere al mondo mentre noi siamo molto giudicanti prima ancora di sentire le nostre emozioni spesso le blocchiamo abbiamo quest'idea poi che ci siano emozioni buone emozioni cattive ci dicono sempre che ci sono quelle positive e quelle negative abbiamo quest'idea della felicità a tutti i costi e anche un'idea del benessere come armonia come tutte le cose vanno bene si incastrano perfettamente i bambini non piangono mai i genitori sono tutti felici il prato è sempre pulito e quindi tutte le cose devono quadrare per poterci far stare bene è chiaro che è una visione edulcorata fiavesca ma neanche auspicabile perché noi abbiamo bisogno di bambini che si arrabbiano di bambini che piangono di bambini che si mettono di traverso che si ribellano che si annoiano che se ne vanno da un'altra parte perché questa è l'espressione del loro modo di esistere al mondo che spesso blocchiamo proprio in virtù di una rappresentazione come dire alla ricerca dell'armonia l'armonia non è assenza di emotività l'armonia è coniugazione del proprio mondo interno con il mondo esterno quindi in maniera coerente in maniera fluida in maniera che può essere governata sono geloso ma non ti spacco la testa per questo non ti uccido per questo come vediamo fare con i femminicidi ormai 11 dall'inizio dell'anno che ci dicono che c'è poca educazione all'intelligenza intrapersonale vale a dire la capacità di accogliersi per le emozioni che proviamo e di modulare quell'emozione sulla base di un'analisi di realtà che tiene conto di tutte le parti non solo del fatto che io in quel momento sono precipitato dentro la mia rabbia o il mio senso di abbandono o di gelosia e questo questo che vi dico adesso per gli adulti va coltivato in questi primi anni quelli in cui i bambini sono sono con noi va coltivato permettendo al bambino di stare con se stesso e alla bambina permettendo ai bambini di i più diversi comportamenti le più diverse espressioni di sé nella realtà delle comunità in cui noi ci troviamo a essere presenti come adulti accogliendo tutte le loro manifestazioni accogliere non significa poi permettere qualsiasi cosa ma significa legittimare dare le parole al bambino per legittimare ciò che mostra di provare perché noi non lo sappiamo ciò che prova se non ce lo dice ma legittimiamo quel comportamento e anche spesso si dice i bambini se un bambino fa un capriccio per esempio cosa si fa bisogna ignorarlo no il bambino manda un capriccio perché ci manda un messaggio e intende che noi prendiamo in mano quel messaggio quindi se noi lo ignoriamo quel bambino deve alzare il tono di quel capriccio per poter essere preso in considerazione oppure si spegne perché come dire ci ho provato una volta ci ho provato due ci ho provato tre non viene nulla è inutile ma questo vuol dire che il bambino è da solo e un educatore non può permettere questo il bambino che si mette di traverso è un bambino che ci sta mandando un messaggio e a cui bisogna fin dai primi mesi di vita dare l'opportunità di esplorarsi internamente perché noi tanto linguaggio tanta comunicazione leghiamo al mondo esterno dalle cose no da insegnare ai bambini il nome delle cose degli alberi della frutta della verdura della destra della sinistra e quando si tratta del mondo interno spesso non abbiamo neanche noi il vocabolario adeguato per descriverne le sfumature e si parla piuttosto in termini di comportamento per esempio si chiede perché gli hai dato un calcio invece di dire come ti sentivi mentre è partita quell'azione questo aiuta il bambino all'esplorazione interna e non lo spinge subito sul risultato di quello che ha sentito lo rifà tornare indietro a quello che ha sentito in quel momento è necessario che questa cosa avvenga nella realtà cioè l'emozione è è un attimo l'emozione non è duratura non è che se mi sono indispettito perché un compagno o una compagna mi ha tolto un gioco di mano resto indispettito tutto il tempo sono indispettito in quel momento quindi se l'insegnante se l'educatrice si accorge di questo di un bambino che è indispettito può fermare l'attività perché questa questo accompagnamento all'indagine emotiva intra psichica è più importante di qualsiasi altra cosa stiate facendo in quel momento perché è il linguaggio dei linguaggi è il linguaggio del sé è il linguaggio dell'identità è quello che ci permette di acquisire un'identità non perché un altro ce n'ha dato una formula e ci ha detto se è un bambino cattivo violento che ne so se è un bambino capriccioso se è un bambino che si mette sempre di traverso ma se è un bambino che prova questa cosa che ha dentro di sé questa emozione esploriamola insieme cerchiamo di darle un nome cerchiamo di capire da dove viene e come sia possibile trovare una strategia perché non diventi una interruzione del rapporto con l'altro un'interruzione seria perché poi ci sono anche liti che devono avvenire il tema non è essere sempre in pace con tutti il tema è saper trovare le strategie anche per litigare senza dover eliminare l'altro dalla faccia della terra o dalla come dire dal mio panorama momentaneo saper stare arrabbiati accanto che e questa è la vera competenza non tanto non arrabbiarsi perché come dire i sassi non si arrabbiano gli esseri umani hanno questa possibilità hanno delle possibilità enormi dal punto di vista emotivo e noi dobbiamo essere la bussola che accompagna i bambini in questa esplorazione senza paura senza ritegno senza senza vergogna parlando della vergogna quando sorge parlando del della rabbia quando quando si verifica parlando della invidia parlando della gelosia parlando della felicità della differenza tra la felicità e la gioia e della contentezza cioè aiutando i bambini anche con il linguaggio a esplorarsi internamente perché questo è il primo passo per per una buona intelligenza intrapersonale cioè conoscere no il mio mondo interno un po' come se io per avere una buona intelligenza naturalistica devo sapere le differenze tra tra tipi di piante per prendermene cura se è una pianta che vuole il sole o l'ombra se è una pianta che ha bisogno di molta acqua o no quindi prima la conosco poi la posso riconoscere allora la posso anche curare me ne posso prendere cura nel mondo interno è la stessa cosa c'è bisogno di conoscere e la conoscenza deve essere guidata dall'adulto così come lo facciamo per il mondo esterno dovremmo accompagnare i bambini alla conoscenza del mondo interno molto più delicata perché nel mondo esterno se io dico a un bambino che questa è una borraccia rossa tutte e due vediamo la borraccia rossa ma se io dico a un bambino forse quello che provi è rabbia io non la vedo la sua rabbia solo lui sente qualcosa dentro di sé e quindi io bisogna che gliela propongo sempre come un'ipotesi sempre con una formula ipotetica o dubitativa questa forse hai fatto così perché hai sentito che eri geloso forse hai fatto così perché ti è sembrato di essere stato scartato da un gioco e quindi ti sei sentito abbandonato in modo che in questo modo diamo l'opportunità ai bambini di collegare le nostre parole al loro stato interno di aderire e di avere poi il vocabolario delle emozioni legate a un qualcosa di reale l'emozione è una è una reazione neurofisiologica ha una base fisica quindi forse ve le avevo fatte anche vedere un'altra volta ma provo a farvi vedere un'immagine delle delle emozioni vediamo se la riacchiappa il volo ecco questa è una mappatura delle emozioni così come emettiamo calore diciamo con il nostro corpo in base all'emozione che proviamo guardate che meraviglia è come per esempio vedete la rabbia la prima che è la rabbia si sente nella parte superiore del corpo e va fino alle mani cioè quando sei arrabbiato stringi i pugni le mani sono interessati dalla rabbia e per esempio c'è un piccolissimo interessamento dei piedi qualche volta quando si è arrabbiati si pestano i piedi di fatto cioè è una siamo irrorati di sangue di cellule che vengono attivate e possiamo riconoscere i nostri stati d'animo proprio in base al punto dal quale originano e che cosa scatenano se guardate la la paura sì Federica ha alzato la mano forse vuole fare una domanda ok si vede che è passata per caso sopra la mano alzata guardate la la felicità per esempio no la felicità è ci ci prende tutti dalla testa ai piedi un bambino felice ha bisogno di movimento di di saltellare di di gioire anche con con tutto il corpo con tutta l'attivazione un bambino felice lo notiamo perché si muove pensate quante volte invece il movimento viene interpretato come fastidioso e invece è un'espressione proprio di quasi del massimo del benessere perché è tutto è tutto interessato il corpo nello stato di felicità la differenza con lo stato per esempio di tristezza in cui siamo incupiti vedete tutto freddo il corpo e abbiamo un senso di pesantezza qui di oppressione sul sul petto e ovviamente interessata la zona degli occhi perché una tristezza è legata anche allo sgorgare del del pianto quando siamo fermi in come dire al senza provare emozioni particolari in uno stato di tranquillità siamo un po' spenti come dire non non respingiamo ma neanche attraiamo non siamo né caldi né freddi siamo fermi questo è proprio uno stato di fermo guardate la depressione che invece è proprio congelamento del movimento congelamento della possibilità di esplorare con le mani si vede proprio dal colore che noi questi sono i colori che sono la trasmutazione del 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 calore che emettiamo nel corpo mentre proviamo certi stati d'animo e sono tradotti in colori e guardate la vergogna che interessa molto il volto no le guance infatti si dice che si prova rossore e spesso questa parte del corpo in cui per esempio quando ci si vergogna si vedono anche un po' delle chiazze no sul collo così l'orgoglio invece è tutto tutto nella parte molto alta essere orgogliosi significa quando ti tiri un po' anche su no di spalle così si sente questa questa localizzazione vedete che sono anche localizzate le varie le varie emozioni e quindi possiamo aiutare i bambini proprio a esplorare no dove sentono l'attivazione perché per esempio hanno ascoltato che vi posso dire un racconto spesso si fa fare questa cosa come ti senti ma i bambini uno dice mi sento felice tutti gli altri felice 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 perché scatta una sorta di automatismo e lo come dire adesso almeno così la maestra non me lo chiede più lo faccio contenta gli risponde se invece noi aiutassimo il bambino a esplorare no hai ascoltato questo racconto mettiti un attimo in posizione comoda e prova a sentire il tuo corpo dove senti che c'è calore no che c'è movimento li possiamo guidare ovviamente c'è del battito cardiaco senti il cuore che batte oppure senti il caldo nelle guance e poi aiutarli a dare un nome a quello che ha questa esplorazione sempre con la formula forse adesso tu ti senti felice o forse adesso tu hai avuto paura perché era una storia che ti ha impaurito o ti vergogni di dire come ti senti quindi più ampia la nostra capacità di raccontare ai bambini il loro mondo interno più il bambino in questi primi anni di vita entra in contatto con se stesso non prova paura nell'esplorarsi non si blocca nell'esplorazione perché spesso siamo noi impauriti dai sentimenti dalle emozioni dei bambini e per esempio che vi posso dire se due fratelli sono gelosi quasi lo neghiamo anzi spesso si sente dire no no ma quando è nata la sorellina ha fatto una piega felicissimo anzi gli dà un sacco di carezze di coccole mi viene da dire tutta questa abbondanza forse nasconde proprio una difficoltà no di poter esprimere anche con l'adulto presente anche la gelosia perché è normale che ci sia perché prima eri il re del mondo e adesso sei diventato se no un sottosegretario quindi ci sta è naturale è normale se non appare dovremmo quasi quasi un po' spingerla no per per dare l'opportunità e la legittimazione di dire non succede niente puoi essere geloso e amare tuo fratello o tua sorella puoi essere geloso e essere tranquillo che non succederà nulla potete litigare e e non quella rabbia determinata da chissà quale evento non è pericolosa perché la puoi sentire e ti do anche l'evidenza come genitore come adulto come educatore che l'hai sentita e l'hai governata questo produce il senso dell'auto efficacia no non fate la pace che spesso è quello che noi l'intervento che facciamo come adulti senza alcuna esplorazione emotiva perché siamo disturbati dalla disarmonia ma come vi sentite aiutiamo i bambini a esplorare il mondo interno aiutiamo i bambini a dare parola e li aiutiamo anche li conteniamo e gli diamo l'evidenza che anche essendo molto arrabbiato e magari anche avendo litigato anche avendo usato un un modo scostante di stare con l'altro di fatto non è successo nulla e non è neanche necessario ripristinare subito velocemente la situazione si può stare un po' lontani perché se si è arrabbiati non si ha tanto voglia di stare in contatto con l'altro e aspettare che poi magari anche invitare a dire quando sentirai che questa cosa è un po' elaborata potrai più piacevolmente rimetterti a giocare anche con lui o con lei poi i bambini si dimenticano e dopo un po' chiaramente sono di nuovo tutti insieme questa esplorazione nella fascia 3-6 è fondamentale vedremo anche precedentemente nella fascia 0-3 ma qui siamo in una fase in cui siccome il bambino ha un'identità un pochino più accentuata c'è un senso di sé che si è sviluppato nei primi tre anni di vita allora è più semplice che scappino i no i capricci le opposizioni sono i bambini oppositori proprio per quello perché coltivano e cercano di separarsi dal mondo nel quale sono nati quindi si affermano per la prima volta e dunque decidono che non vogliono mangiare una cosa decidono che non si vogliono mettere scarpe quando è ora decidono che vogliono fare da soli abbottonarsi un cappotto che ci vorrebbe un secondo se lo fa un adulto ce ne vogliono ci vogliono cinque minuti se lo fa un bambino ma è proprio l'attestazione della loro della loro identità e nasce questo senso dell'orgoglio che vediamo qua nasce in questa fase l'orgoglio e la vergogna cioè l'orgoglio di fare da soli la vergogna del fallimento quindi di fronte al fallimento è molto importante il nostro il nostro la nostra reazione perché la nostra reazione può dire al bambino sì hai fallito stai male perché hai fallito è corretto non mi spaventa stanti a starti accanto mentre stai male perché hai fallito non ti devo necessariamente risistemare le cose non ti placco d'oro la situazione la nuvoletta grigia sopra la testa continuo a essere in dialogo con te e a starti accanto mentre tu provi quel senso di frustrazione è la frustrazione nella quale nella quale non ti lascio macerare tutto il tempo ma che magari ti aiuto anche un po' dopo un po' a elaborare se vedo che da solo non riesci o da solo non riesci invitandoti con queste operazioni di affiancamento a provare un'altra strategia a riprovare in un'altra maniera a trovare una soluzione diversa rispetto a quella tentata che non ha dato l'esito desiderato questa educazione emotiva fatta così che non è quindi quella con gli emoticons non è quella con le faccine che non non possono dirci nulla vedete come l'emozione è tutto il corpo non è la faccia tra l'altro in questo momento pandemico la faccia non ce la vediamo quasi più quindi se noi gli diamo l'idea di tutto il corpo di come tutto il corpo è coinvolto nella nella espressione delle emozioni avremo dei bambini poco comunicativi no? dal punto di vista emotivo perché non hanno neanche quella retroazione nostra purtroppo in gran parte durante questo anno che insomma comincia a diventare lungo per un bambino e possiamo aumentare il dosaggio della nostra espressività anche noi usando altre parti per esempio lo sguardo può diventare molto più comunicativo aumentando il dosaggio della del supporto dell'attenzione rispetto a quello che facciamo quando anche la bocca la mimica del resto del volto è a disposizione e credo che questa sia veramente l'operazione di base cioè al di là di tutto se abbiamo accompagnato i bambini in questo percorso che sviluppa l'intelligenza intrapersonale cioè la capacità da risolvere problemi nel proprio mondo interno abbiamo risolto il problema dei problemi perché il resto poi come dire si apprende anche nell'educazione più informale mentre questa è un'operazione che è difficile che nell'informalità noi troviamo una professionalità adeguata proprio ad accompagnarci in questa esplorazione guidata serena aperta non non stereotipata che non va alla ricerca di un prodotto finale che ce lo rappresentiamo sempre come come dire lo stato di equilibrio lo stato di armonia no e invece abituare i bambini a una sana conflittualità a una sana rappresentazione di sé positiva anche quando sono si ribellano anche quando dicono di no anche quando fanno un capriccio anche quando si arrabbiano si vergognano si deprimono sono in ansia come sono adesso in ansia quindi danno il messaggio che si può essere in ansia io come adulto non vado in ansia se tu sei in ansia io come adulto ti sto accanto mentre tu stai in ansia perché ci sono motivi per essere per essere in ansia faccio un piccolo una piccola sosta per chiedervi se avete cose da appunto da chiedere salve faccio io una domanda mi sente? sì sì volevo sapere questo accompagnare il bambino nell'indagine emotiva anche per cercare il giusto vocabolario per poter esprimere tutto quanto se se e quando va fatto individualmente e o in piccolo gruppo o in coppia allora va fatto tutte le volte che c'è un'opportunità e che se ne che c'è una situazione che sorge per cui se i bambini sono in stato di quieta emotiva non li vado a stuzzicare no? ma se per esempio ho ho raccontato una fiaba e mi sono accorta chiaramente perché c'è uno sguardo alla fiaba e un po' qualche bambino era più agitato muoveva i piedi no? o si dimenava un po' allora vuol dire che magari è sorta qualche emozione mentre nel racconto della fiaba e posso posso soffermarmi a chiedere al bambino facendolo dandogli il feedback ho visto che ti muovevi tanto e ho pensato che forse questa fiaba si è fatto emozionare e allora magari ci vuoi dire dove la sentivi l'emozione questo ce lo possono dire i bambini anche se sono piccoli la sentivi e le possiamo guidare no? nei piedi nelle mani nella testa nella pancia e abituarli appunto a questo tipo di contatto con se stessi e di comprensione che l'emozione ha una radice nel corpo e poi certo se c'è un litigio se c'è che vi posso dire un bambino si è ammalato e non sta venendo a scuola o il nonno di un bambino sta in ospedale e dobbiamo affrontare emotivamente quella situazione se a quel punto può essere fatto o nel piccolo gruppo o nel grande gruppo dipende un po' da quanti siamo in quel momento no? anche questo è una cosa da stabilire perché se poi ho 15 bambini che piangono tutti insieme faccio più fatica ad andare incontro a tutte le loro emozioni perché poi alcune emozioni si propagano e allora in base alla situazione posso capire se è il caso di prenderne due o tre ad esempio e permetterne più a loro un tipo di esplorazione vanno aiutati soprattutto quei bambini meno capaci di fare una di comprendere se stessi bambino che per esempio quando entra in aula e ha sempre quella scarica motoria che sembra un turbine probabilmente sta scaricando un'emozione allora innanzitutto posso invitare tutti i bambini a partecipare a quel movimento in modo che glielo normalizzo glielo legittimo e dico che siamo tutti in ascolto di quello che sta accadendo e quindi lì invito i bambini a correre insieme e quando vedo che il bambino più diciamo quello che ha iniziato questo movimento inizia un pochino a rallentare allora lì posso inserire qualche indicazione sul come ti sentivi quando sei entrato come ti senti adesso invitando invitando anche gli altri bambini ovviamente a parlare in modo che i bambini con le loro idee possano contribuire anche a a dare qualche indicazione a quel bambino che scarica più motoriamente che quindi vuol dire che è meno a contatto con il mondo interno poi ci sono i bambini capacissimi di dirti maestra non me ne va più giocare maestra questa cosa non mi piace io questo gioco non lo faccio cioè sono già molto hanno già analizzato sufficientemente il loro mondo interno e hanno preso delle decisioni che non sono ostinate non sono non interrompono il dialogo ma esprimono un'analisi interna e una scelta che quindi va anche un po' rispettata quando è frutto di una di una maturità mi viene da dire emotiva e intrapersonale altra cosa il bambino che invece per qualsiasi sia la proposta vi dice non la faccio lo può fare sia perché si oppone ma anche perché non ha sufficiente come dire autostima e quindi bisogna sostenere il senso dell'auto efficacia per rafforzargli l'autostima vale a dire dagli dei compiti un po' complessi in cui però sperimenti di la soddisfazione di vedere che trovo una soluzione se gli do compiti troppo semplificati è chiaro che riesce ma non gli nuto l'autostima perché l'autostima viene da un'analisi di realtà in cui c'è un piccolo effetto perturbante nel compito che mi proponi ma ce la posso fare ho trovato la soluzione allora questo mi nutre nel senso di auto efficacia e quindi va a corroborare la mia autostima c'è un'altra mano alzata da Ramona allora io sto nella scuola dell'infanzia al Pinocchio e noi abbiamo nella nostra classe quest'anno ci siamo accorte che molti bambini sono arrabbiati ma vengono arrabbiati da casa proprio arrabbiati e noi è dall'inizio dell'anno diciamo da ottobre grosso modo che stiamo lavorando sulle emozioni cercando di tirare fuori di trovare un modo per fargli scaricare questa rabbia perché nella classe abbiamo anche una particolarità ci sono parecchi maschi e i maschi rispetto alle femmine sono molto più fisici quindi questa rabbia oltre a parole viene anche manifestata magari anche con qualche atteggiamento questa mattina per esempio abbiamo proprio parlato attraverso un libro della rabbia in questo libro il titolo è che rabbia dove c'è questo bambino arrabbiato che sfoga la sua rabbia urlando e li abbiamo fatti urlare poi gli abbiamo dato l'orologio delle emozioni che gli abbiamo fatto preparare tempo fa e gli abbiamo chiesto qual era l'emozione che provavano dopo questo forte urlo che gli abbiamo fatto fare e è venuto fuori che qualcuno era calmo quindi il bambino in particolare ce n'è uno in particolare che è sempre molto arrabbiato e questa mattina l'aveva manifestato sempre con i compagni manifesta questa rabbia perché qualunque cosa gli dà fastidio allora o gli risponde o gli allunga la mano insomma queste cose qua e lui mi ha detto alla fine sono stanco cioè dopo che ha fatto questo urlo ha detto sono stanco quindi proprio l'ha buttata fuori allora io la mia domanda è cioè stiamo lavorando e stiamo facendo cos'altro possiamo fare per poterli aiutare perché io penso che sia anche un po' questa situazione che loro hanno vissuto che gli crea probabilmente questa rabbia perché cioè è troppo manifestata per essere un qualcosa che venga dalla scuola quindi probabilmente può venire fuori da un qualcosa di esterno anche la situazione fatto magari delle limitazioni e quant'altro e noi ecco stiamo lavorando sulle emozioni magari se c'è un qualcosa che possiamo fare in più per poterli aiutare perché ecco il nostro interesse è creare una situazione di calma cioè di calma insomma di limitare un po' questa questa rabbia tra questi bambini è questo ecco ok parto un po' dall'inizio perché ovviamente adesso qui non c'è il tempo di esplorare a fondo ma mi verrebbe da chiedere come 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 fate a dire che che quello che i bambini manifestano è rabbia poi lei ha parlato un po' di una rabbia adesso c'è un bambino in particolare però di una rabbia un po' diffusa e forse il primo passo da fare è innanzitutto legare l'analisi del proprio del proprio stato interno alla analisi del corpo no? come vi dicevo prima dove dove senti adesso tu senti il tuo corpo dove c'è la tensione dove c'è il calore dove c'è il battito dove c'è una pulsazione dove troviamo una macchia rossa dove troviamo che c'è una tensione no? e quindi aiutare i bambini prima alla decodificazione dello stato d'animo attraverso un'analisi proprio del 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 corporea perché quella la possono fare quella la possono sentire anzi è molto importante poterla fare adesso per sapere come si sta perché i bambini sono molto più in contatto con il corpo di quando non saranno più poi più grandi e molto più difficile guidarli a fare questa esplorazione e poi sulla base di questo cercare appunto anche di decodificare di dare la giusta parola no? a quello che provano meglio se con qualcosa che nasce dentro la situazione del nido della scuola infanzia cioè bambino che lei diceva non so si è arrabbiato con un altro no? è una situazione che riguarda tutti l'abbiamo visto tutti non è una rabbia che ti porti da casa che la fai solo tu e non ci possiamo fare nulla tra l'altro è una situazione che è nata si è sviluppata e è bene che si chiuda qui in questo microcosmo che è la scuola e la tua sezione e allora si lavora su quella su quella lì perché quella sono sicura io maestra di averla vista sei sicuro tu bambino di averla vista gli altri sono partecipi quindi lavorare sulle emozioni che sono nel qui e ora non quelle che nascono da situazioni incontrollabili e su cui tra l'altro mettere mano è pericoloso perché noi non sappiamo poi cosa succede nelle famiglie non è neanche nostro compito metterci il becco quindi state sulle situazioni del qui e ora abituati i bambini all'analisi emotiva nel qui e ora e chiaramente poi possiamo trovare delle strategie di elaborazione sempre attraverso modalità simboliche che possano essere la fiaba il gioco il gioco simbolico chiaramente la grammatizzazione in modo che si prefiguri con i bambini e le bambine anche il come se ne esce poi saranno loro che sulla base delle nostre offerte decideranno come escono effettivamente da quella singola situazione un'altra cosa che volevo dire a volte la rabbia è la trasformazione della paura perché piuttosto la paura ci mette in uno stato di impotenza insomma ci fa sentire più piccoli meno potenti allora per evitare di sentirla trasformiamo la paura in rabbia perché la rabbia ci dà l'illusione di essere potenti e quindi dietro un bambino arrabbiato spesso c'è un bambino impaurito allora anche qui si può lavorare dal punto di vista proprio sempre dell'esplorazione del corpo di dove si radica quello che stai sentendo in quel momento posso reagire dando un calcio a un altro bambino perché ho avuto paura di perderlo che non mi voglia più giocare con me è chiaro che la strategia è esattamente il contrario di quello che serve ma la strategia poi gliela indico io una volta che ho capito se si tratta di rabbia come rabbia o di rabbia come mascheramento della paura così come spesso la rabbia questo più negli adulti è il mascheramento della depressione cioè è meglio come dire se sto arrabbiato ho l'energia se tu mi togli la rabbia mi deprimo quindi alla fine noi in psicoterapia diciamo è meglio che se la tenga un po' la rabbia perché comunque lo mantiene diciamo agganciato un po' al mondo esterno no piuttosto che nel ritiro e venivo al tema dello sfogare perché una volta si diceva proprio che bisogna far sfogare la rabbia con queste modalità di comportamento per esempio l'urlo anche battere i pugni no in realtà sembra che quando la rabbia è rabbia cioè è vera non è mascheramento queste modalità non fanno altro che aumentare il tenore emotivo cioè se io sono veramente squisitamente arrabbiato veramente arrabbiato cioè non trasformo niente farei a pezzi il bambino che c'ho davanti l'invito è urlare mi si acuisce il tenore della rabbia tanto è vero che quando succedono adesso anche questi giorni queste risse tra ragazzi no è che la rabbia si stimola vicendevolmente quindi l'urlo lo sfogo che avviene attraverso che ne so dare un pugno su una porta in realtà poi diventa dare un pugno a una persona invece bisogna che noi troviamo la forma all'inverso di partire alti e arrivare bassi cioè a tornare a uno stato di quiete quindi trovare una modalità per esempio prima vi dicevo il movimento no che un bambino che si muove in maniera un po' disordinata e appunto sembra mettere in campo sembra realizzare la rabbia con il movimento allora lo per esempio lo lo canalizzo io come insegnante cominciando a inserirmi nel ritmo della corsa con un tamburello con il battito delle mani e decelerando via via e tornando al ritmo più lento aspettando che i bambini che i bambini mi seguano che quindi decrementino perché tutto questo è energia è energia emotiva e l'energia come ci hanno insegnato per quella fisica non si crea non si distrugge ma si trasforma allora bisogna trasformarla in maniera produttiva se io faccio questo chiaramente mi metto a battere i piedi che ne so un tamburello come dicevo non devo dare indicazioni ai bambini seguitemi guarda che non hai seguito il ritmo ma semplicemente mi metto a farlo in una posizione in cui tutti mi vedano e aspetto che i bambini siano catturati che si produca quella magia del dialogo per cui un po' mi viene a dire come il pifferaio magico che glielo faceva per portare i topi al fiume ma riesce a incantare che vuol dire a prendere dentro le sue trame no e l'energia dei bambini farli sentire contenuti con un mezzo non troppo diretto che come può essere anche la parola e ricondurli a uno stato di di quiete di disponibilità a fare qualcosa di più cognitivo cioè un bambino quando è così arrabbiato anche cognitivamente è difficile tenerlo a fare qualche cosa chiaramente quindi la rabbia non va tanto limitata quanto accompagnata da adulti che non ne hanno paura non la giudicano e fanno sentire i bambini che non c'è nulla di male nell'essere arrabbiati anche se posso capire come insegnanti siete più felici quando i bambini sono inquiete però se stanno inquiete vuol dire anche che non non producono nulla di umano va bene grazie grazie prego allora abbiamo ancora qualche minuto e io mi sono soffermata più su questa intrapersonale perché credo che sia veramente una chiave di volta e penso anche di aver detto delle cose che non sono facilmente digeribili non sono facilmente immagino che non sentiate come facilmente applicabili non di meno sono convinta che una educazione all'emotività vada fatta in questa maniera e magari ci saranno poi i modi e proprio anche nella supervisione di capire come si può tradurre quello che io dico adesso qui in maniera un po' cattedratica in qualcosa che è invece la vostra quotidianità ma che può fare veramente la differenza e facciamo un accenno all'intelligenza interpersonale perché anche qui credo ci siano tanti stereotipi tra l'altro spesso vengono anche dalle ricerche scientifiche magari anche malinterpretate o filtrate l'intelligenza interpersonale è l'intelligenza per l'altro cioè è quello che ci permette di stare in sintonia con le persone che abbiamo intorno in sintonia significa comprendere quello che provano più o meno e trovare le strategie per interagire anche qui non è che dobbiamo immaginare che le persone con intelligenza interpersonale abbiano rapporti idiliaci con tutto il mondo ma possono sono quelle che possono decidere dove impegnare energie per far crescere la relazione quelle dove non non è così importante avere tanto impegno quindi dirigono le energie no a seconda di un obiettivo e anche quelle che possono decidere che alcune in alcune relazioni non si impegnano proprio o desiderano persino chiuderle cioè io posso decidere consapevolmente che voglio litigare perché adesso basta ma posso decidere consapevolmente che siccome sei una persona a cui tengo elaboro e lavoro le emozioni dentro di me in modo tale che la relazione interpersonale possa continuare a essere aperta chi ha una buona intelligenza interpersonale sa anche abbastanza quali sono i punti deboli degli altri e può decidere quando proteggerli quindi non farne uso ma anche quando volerne fare uso proprio per ricattare l'altro per metterla all'angolo cioè l'intelligenza non è sempre usata per produrre benessere qualche volta è la decisione intelligente vuol dire con una soluzione di problema che va verso un obiettivo consapevole dichiarato a se stessi se non altro di interrompere una relazione di cioè una relazione che comprendo essere che mi crea malessere è utile interromperla e quindi io utilizzo le mie strategie per interrompere una relazione questo chiaramente quando siamo adulti ma questo significa che anche da bambini noi possiamo abituare i bambini e le bambine a questa intelligenza per l'altro che prima dicevo il fatto degli stereotipi perché si sente ancora parlare di egocentrismo piacetiano cioè i bambini sono egocentrici quindi non possono affacciarsi all'altro perché non perché sono centrati su se stessi allora l'egocentrismo piacetiano è un egocentrismo logico un egocentrismo di tipo razionale cognitivo cioè a che fare con un problem solving legato a alla difficoltà di andare avanti e indietro in un problema di logica tant'è vero che appunto piacet lo applicava ai gettoni vi ricordate a tutto al tema dell'intelligenza preoperatoria concreta quindi la difficoltà a tenere in mano contemporaneamente i due poli di una situazione in cui per il bambino se si sposta da una parte cognitivamente è più semplice tener conto dell'isultato finale se si sposta dall'altra è più facile tener conto solo della situazione iniziale è più difficile andare avanti indietro dall'una all'altra mentre invece dal punto di vista della relazione sociale i bambini sono dotati di dispositivi per la relazione interpersonale già dalla nascita ce l'hanno detto gli studiosi che hanno individuato nei sistemi di comunicazione proprio primordiali il sorriso il pianto le vocalizzazioni questa intelligenza che va verso l'altro che tra l'altro è proprio un patrimonio genetico con il quale veniamo al mondo e quindi se non c'è un qualche problema di tipo genetico appunto oppure perinatale o una cerebrolesione o un autismo no noi abbiamo già la capacità di stare in un'interazione dinamica che tenga conto dell'altro pensate a quella che si chiama l'ecolalia cioè nella l'azione nella fase della comunicazione con i vezzeggiamenti siamo in una fase certo precedente da quella 3-6 ma per capirci il bambino l'adulto o il bambino emette dei suoni l'adulto li riprende e li riproduce ma nella l'azione è l'adulto che produce un suono è il bambino che lo ripete e si si coniugano insieme in un dinamismo no che tiene conto delle pause dei turni cioè c'è già l'altro nell'orizzonte dell'io quando già in questi primi momenti della vita quindi noi dobbiamo sostenere chiaramente questi dispositivi e sapere che come esseri umani siamo gli esseri viventi dotati di più strategie sociali al mondo bisogna sostenere questa intelligenza perché a differenza delle altre c'è poca c'è poco curriculum dedicato a questo no quando si parla intelligenza emotiva per esempio ecco si fanno delle azioni con le schede con 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 le faccine eccetera ma quella non è propriamente educazione emotiva perché come faccio l'educazione alla natura stanno in un prato bisogna che faccia l'educazione emotiva stando dentro l'emozione di quel momento se no faccio un'operazione così di da scalica e così anche nell'intelligenza interpersonale il modo migliore è stare dentro le relazioni tra bambini e nominarle e dare a loro le strategie per stare insieme ecco per esempio una cosa che si dà per scontata che si creino dei dei gruppi e che i bambini possano collaborare no a un medesimo prodotto così spontaneamente non non è detto spontaneamente qualcuno che per qualche motivo ha avuto più sostegno ce la fa ma spontaneamente qualche altro non ce la fa rimane sempre ai bordi e per esempio noi sappiamo che bisogna partire in questa fascia di età quando i bambini sono di tre anni è meglio partire da gruppi di tre che è la base del dell'interpersonale perché se siamo io e tu ognuno di noi ha un turno ma se siamo io e tu e un altro quell'altro c'è un qualcuno che rimane può rimanere escluso da questi turni quindi la vera intelligenza interpersonale quando nella triade si fa sì che ci siano degli equilibri che si rivolga agli uno agli altri allora i primi gruppi se voi guardate osservate bene i bambini di tre anni sono spesso due più uno nei loro giochi spontanei due giocano e uno guarda e poi qualche volta ci si scambia il turno altri due giocano e un altro sta guardando è normale che sia così è una fase che comporterà poi il gioco a tre cioè in tre vuol dire che siamo tre perché uno fa l'infermiera uno fa il medico e uno fa il paziente ok visto che siamo in termini di pandemia siamo in tre facciamo stesso gioco ci accordiamo in tre sulla stessa sulla stessa narrazione questo vuol dire fare gruppo questo vuol dire collaborare siamo in tre mettiamo tutte e tre le mani sulla stessa torre quindi ci diamo i turni e a volte decidiamo insieme qual è il pezzo che ci permette di costruirla o facciamo in tre un puzzle ma questo questo passa attraverso la fase due più uno quindi quando i bambini sono così piccoli è meglio avere gruppi piccoli perché si allenino proprio alla presenza e passare via via a gruppi un pochettino più grandi negli anni successivi o nei mesi successivi quindi all'inizio io consiglio di dividere sempre il gruppo in gruppi più piccoli che sono un po' sparsi nell'ambiente con l'educatore l'insegnante che che tiene un po' uno sguardo no? su tutti e con dei materiali che permettano ai bambini di interagire contemporaneamente perché se poi gli metto qualche cosa che sono quattro fogli e sono quattro bambini sul tavolo non è un qualcosa che mi aiuta a fare un lavoro interpersonale perché ognuno ha il suo e quando c'è un oggetto comune che viene creato che nell'interazione che allora alleniamo l'intelligenza interpersonale allora devo tenere conto del tuo turno devo tenere conto che anche tu vuoi mettere un pezzo di puzzle devo tenere conto che senza se tu non mi metti il tuo pezzo di puzzle io non posso andare avanti e quindi mi serve che tu entri nel gioco e devo trovare il modo di farti di tirarci di tirarti dentro se non vuoi partecipare questo è un po' a grandi linee e molto 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 velocemente avevo visto arrivare una domanda e dice nell'intelligenza interpersonale rientrano anche i bulli perché noi qualche anno fa avevamo un bambino che era sicuro dell'appoggio della mamma e faceva male ai compagni con parole e sotto banco cioè alle spalle di noi adulti sì l'intelligenza interpersonale può essere usata per la leadership cioè vuol dire che io capisco come quali sono i bisogni degli altri e o quali sono i punti deboli degli altri e li utilizzo per per guidarli leader viene proprio dato lead che vuol dire addirittura tenere le redditi di un cavallo ecco il leader fa questo cavalca un po' i bisogni del gruppo e li porta soddisfazione quindi se voi avete un bambino che vi sembra che trascini un po' gli altri la cosa migliore che potete fare è osservarlo e sostituirvi a lui cioè dare voi legittimare voi quello che quel bambino sta proponendo al gruppo voi state proponendo che vi posso dire una lettura e avete tutti i bambini in cerchio c'è uno che comincia a a mettersi sotto un banco e altri gli vanno dietro non non levatevi dalla testa di poter continuare a fare la lettura e e di richiamare quelli che sono andati sotto al banco conviene che con la voce legittimate quelli che sono andati sotto al banco dicendo ho visto che siete là evidentemente non non avete voglia non vi piace in questo momento volete fare un'altra cosa e io vi legittimo a starci ok quindi mantenete voi il governo della situazione e continuate la lettura oppure dite a tutti i bambini ci sono dei bambini che sono andati a giocare sotto ai banchi e forse in questo modo voi avete più voglia di stare sotto ai banchi che stare qui ad ascoltare quindi sono sempre io che organizzo strutturo e legittimo non mi faccio portare via la leadership ma non perché siamo in competizione perché la mia leadership è quella educativa è quella strategica è quella lungimirante i bambini non hanno lungimiranza su loro stessi e mantenere la leadership significa dare contenimento se io voglio cedere la leadership gliela cedo io quindi vuol dire che comunque la mantengo e la legittimo e dico quel bambino lì ha fatto bene andare sotto un banco possiamo farlo tutti vedete che in questo modo quel bambino lì non gli avete dato più quella importanza che lo fa diventare il trascinatore di tre quattro che poi gli vanno sempre dietro che avete smontato con la vostra intelligenza interpersonale il suo tentativo di sottrarvi no o di sottrarsi attenzione che ecco a quest'età è molto pericoloso parlare di bullo i bambini fino ai sette anni anche otto nove non hanno comportamenti aggressivi intenzionalmente il bambino che morde il bambino che dà un calcio quando ha tre quattro cinque anni non è un bambino aggressivo violento è un bambino che non dosa la forza è un bambino che trova la via del corpo nella manifestazione dell'emozione invece che la via della parola quindi il compito è accompagnarlo a dare parola in modo che trovi la strategia che mantiene aperta l'alerazione piuttosto che interromperla capisco che insomma ci sarebbero molte ore ancora per parlare di queste cose e tutto questo nel quadro della pandemia che stiamo vivendo certamente è ancora più importante è ancora più importante perché ci sono più bambini cioè perché il tenore di fondo no? noi diciamo l'arousal cioè l'attivazione di fondo è alta perché l'esagitazione generale è tangibile si sente e quindi i bambini stanno venendo su respirando quest'aria così pesante e ansiogena per cui che almeno a scuola trovino quel momento di fluidificazione e di accoglienza e di e di legittimazione della loro identità credo che sia fondamentale chiedo a Lisa appunto che vedo che sta attivando il microfono sì ma allora in realtà io volevo ringraziarla per come al solito per la chiarezza e la l'essere diretti no? il mestiere il mestiere educativo è veramente complesso richiede una 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 mole di competenze di di umiltà e di lungimiranza che che non è da poco cioè e forse non non ci se ne rende neanche tanto conto no? fino in fondo parlo di chi non fa questo mestiere e credo che ci abbia dato un nutrimento io vedo a fuoco proprio i punti nodali no? io rinnovo da parte dei partecipanti la disponibilità e lo spazio se vogliono inviare suggestioni commenti idee che nascono lungo questo mese no? di intervallo tra un incontro e l'altro per tenere un po' il filo no? cosa cosa dice? certo di aggancio ai temi che tratta perché è veramente prezioso cioè questi contributi ecco ho espresso il concetto io voglio tornare un attimo a quello che lei diceva prima perché mi arrabbio tantissimo in questo periodo veramente perché tutti parlano di educazione di scuola come se chiunque no? cioè mentre è difficile parlare di come si costruisce il ponte di Genova no invece su come si stavano i bambini chiunque e è proprio perché la professionalità quel patrimonio di competenza per cui un insegnante dice di sì a un bambino e di no a un altro che non nasce mai da uno scheribizzo momentaneo ma un patrimonio immateriale immenso di competenza di conoscenza di revisione di di affinamento no? che poi voglio dire crollano i ponti possiamo sbagliare pure noi nell'educazione ma intanto quella è una professionalità che ci vogliono gli anni per metterla in piedi e anni per tenerla in salute e quindi io sono convinta di questo patrimonio che è immateriale perché non è tangibile ma che è l'unico che forse permette di salvarci da una situazione come quella che stiamo vivendo quindi ne sono molto grata grazie